ciao e benvenuti in un nuovo video allora stavo facendo altro quando è arrivato il corriere con la bliss in box di maggio 2024 quindi ho detto accapariamo tutto ed apriamola così la apriamo subito subito insieme ho solo tolto la confezione come avete visto questa è la scatola che è anche molto molto carina ma cosa contiene non lo so neanche io però intanto vi anticipo che bliss in box in italia prezzo di 16 euro e 90 spedizione inclusa ed è come sempre attivo il codice per avere 5 euro di sconto sul primo ordine anche questo allora io direi di andarla ad aprire anche perché inizia ad essere curiosina e cosa troviamo il cante sun ok ok va bene andiamo a vedere i prodotti tu uno due tre quattro cinque ok e partiamo da dalla parte e andiamo dall'altra sono travel e full size partiamo da questo che non so cosa sia la canopè ok che conosco un po bagno idratante ai fiori mediterranei moisture in mist with mediterranei flower non so cos'è ma adesso leggiamo comunque è un 50 ml e non ho preso ancora il codice qr un secondo ok allora pronta ed abbiamo detto che il canapè e travel size 50 ml 7 euro e 50 è un bagno idratante quindi utilizzare dove si desidera vaporizzare con un cotone o direttamente sul viso per favorire gli attivi idratanti di questo boom bagno pensavo fosse tipo un qualcosa di idratante invece è proprio c'è qualcosa da dare un altro giorno rifrescante invece vaporizza i goccioloni ok però non lo proviamo anche perché stiamo andando sotto l'estate forse da come sono vestita forse andiamo avanti e questo cos'è what's in for me delicate fraganze di tè nero estratto in modo gentile gel doccia al tè nero ok what's in for me non conosco il marchio questo è un 100 ml quindi sempre un travel size ed è 4 euro profumato profumato questo lo proviamo e vedremo poi andiamo con un marchio che invece conosco gru georgius allora a tantissimi piace a me non dispiace ma me ne piacciono molti altri anche questo il defense anti pollution living spray è un spray per capelli anti inquinamento ok questo è un 60 ml sempre un travel size questo è 7 euro e 50 andiamo a sentire il profumo di questo è profumato è delicato profumato quindi è uno spray per capelli le vinne senza risciacquo ok va bene ultimi due prodotti pai pai l'ho già sentito light work reship fruit estratti clean olio struccante cosa interessante light works 10 ml beh sicuramente un travel size 4 euro vado piano perché non so ecco il fortuna è corretto vado piano perché non so è proprio un olio struccante che dovrebbe andare a rimuovere il makeup lo proviamo ma sicuramente tanto io idratante lo struccante ho tutto sulla mano più bello allora andiamo con l'ultimo prodotto a questo marchio che ho già conosciuto sophie mabel questo marchio che abbiamo già visto per il makeup perché è completamente vegetale allora questo è un peach no beach please tinted lip oil ok il lip oil che stanno andando così tanto in questo periodo questo è un full size da 18 euro lo metto qui perché davanti ho lo struccante ah sì è un lip oil sì come consistenza ma non vedo tanto colore ok sono quelli che mi piacciono mi piacciono mi piacciono mi piacciono a questo punto pausa un attimo che mi tolgo tutta questa roba dalle mani ed eccoci pronti per il recapino allora abbiamo detto che il valore di questa box il scusatemi il prezzo di questa box è di 16 euro e 90 abbiamo trovato il gel doccia al tè nero che mi piace profumo questo della canopè ed è idratante spray per il viso per i capelli invece abbiamo ed è grow georgius quello anti inquinamento che va bene anche a tv anti antipolvere va benissimo allora poi per il makeup invece abbiamo lo struccante di pie in olio struccante che voglio provare assolutamente già da tra poco e questo è il lip oil dire scordo sempre sophie mabel e li poi in questi periodi stanno andando molto anche perché sono interessanti non appiccicano vanno anche prima del makeup puoi togli applica un palotto va bene allora il valore di questa box è intorno ai 40 euro con la box italiana non abbiamo mai dei valori molto alti rispetto al costo della box però devo dire che c'è viso corpo capelli e makeup quindi c'è un pochino di tutto a lato a tutti ok noi la proviamo noi prendiamo tutto fatemi sapere come sempre cosa pensate di questi prodotti se vi incuriosiscono quali ventali sono di più io come sempre spero di essere utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao